Stadi vietati per 5 anni a 9 oltre a dell'Ancona per i quali il questore di Pesaro Urbino Antonio Laureola ha disposto il daspo di gruppo per aver aggredito dei tifosi Granata. I fatti risalgono al 13 agosto scorso, prima dell'amichevole tra l'Alma, Juventus Fan e l'Ancona, quando una trentina di tifosi ospiti, travisati con cappucci e armati di bastoni e spranghe di ferro, avevano aggredito un gruppo di fanesi in un bar che dista una decina di metri dallo stadio Mancini. Un'azione che è stata premeditata, forse, per vecchi rancori tra tifoserie. Gli aggressori erano stati messi in fuga dall'arrivo della polizia, gli agenti infatti avevano bloccato sul nascere il tafferuglio ed evitato che le persone coinvolte rimanessero ferite. Il sindaco Seri invece aveva chiesto che gli autori di questo episodio di violenza venissero chiamati a rispondere in sede penale civile per i danni arrecati alla città e agli operatori commerciali di via Metauro. Queste erano le testimonianze del titolare del bar e del telecronista di Fanu TV, Catalani. Questa qua l'hanno diventa proprio, nel senso che hanno cercato di alzarla, di far forza. Hanno provato poi dalla parte di qua, dove c'è la fisioterapista, hanno cercato di bruciare la porta, con dei fumogini o qualcosa del genere, e hanno mancato anche le macchine del parcheggio qui adiacente, alcune macchine insomma, quindi sono stati abbastanza danni. Ecco Marco, io ti faccio presente che io stesso mi sono dovuto rifugiare in un cancello, in un condominio, perché ero letteralmente in mezzo ai tifosi anconetani che erano veramente delle furie. Io li ho visti in faccia e veramente non ti nascondo che anche in me c'è stata un qualche attimo di paura, un corpo contundente, un'arma. È un'arma veramente, ed era piena con un ferro dentro, quindi quando uno viene colpito con una cosa del genere, penso che non è che sia poche cose. Speriamo che sia l'ultima volta che succeda una cosa del genere. Le indagini condotte poi, grazie anche alla registrazione di filmati, hanno permesso di identificare e denunciare nove tifosi, tra 20 e 40 anni, di cui sette anconetani e due ferraresi. I reati contestati sono violenza e resistenza pubblico ufficiale, porto abusivo di strumenti atti ad offendere, danneggiamento, lancio di fumogeni e petardi e di uso di caschi ed altri mezzi per rendere difficoltoso il riconoscimento. Queste persone, che sono già note alle forze dell'ordine per reati da stadio, per lo stesso periodo non potranno partecipare neanche ad altre manifestazioni sportive. In base agli accertamenti scrupolosi dei colleghi del commissariato di Fano e alle denunce al deferimento dell'autorità giudiziaria di questi nove soggetti, la divisione anticrimine si è preoccupata di emanare, di adottare questi DASPO, il DASPO di gruppo, per la prima volta, siamo insomma uno dei primi casi a livello di questure della nostra fascia ed è molto importante sottolineare la deterrenza di questi DASPO e la pesantezza, tra virgolette, di queste misure di prevenzione. In particolare a cinque degli indagati, che già in passato erano stati colpiti dallo stesso provvedimento, è stato anche applicato l'obbligo di firma nella questura del luogo di residenza, un provvedimento convalidato dall'autorità giudiziaria. Nello specifico, questi cinque soggetti, quando la squadra dell'Ancona, essendo supporter dell'Ancona, giocherà in Ancona, a Fano o in qualsiasi altra città delle Marche, dovranno andare in questura a firmare un quarto d'ora dopo l'inizio del primo tempo, un quarto d'ora dopo l'inizio del secondo tempo e un quarto d'ora dopo la fine dell'incontro. Quindi tre volte nell'arco dei 90 minuti della partita per garantire che questi soggetti non infrangano il divieto e non si rechino, nonostante il divieto, a fare danni allo stadio. Grazie.